Peugeot 208 GT, facile da guidare, bella, sportiva, ha tutte le caratteristiche di una macchina che ti diverte dalla tenuta che è veramente eccezionale dalla guidabilità ai freni abbiamo questo volantino che ti dà una precisione cioè non è solo il fatto che è piccolo per cui facile anche da manovrare ma c'è la sostanza perché ha un inserimento molto buono per cui anche come telaistica come assetto è molto buona rispetto anche all'R2 con cui ci faccio il rally nel campionato italiano mantiene un po' le solite caratteristiche di macchina con un ottimo assetto dovuto anche non solo l'anteriore che lo senti sempre ma anche un ottimo posteriore che è un po' il problema delle macchine piccole corte di passo e invece su questa 208 è stato fatto secondo me un ottimo lavoro perché il posteriore è comunque stabile ma il grado al passo è comunque molto stabile questo ti dà fiducia soprattutto nei curvoni nei curvoni lunghi che si possono trovare anche in autostrada è una macchina che è stabile precisa sull'anteriore stabile sul posteriore e quindi Grazie a tutti. Grazie a tutti.